Nell'80 a.C. Cesare, durante l'assedio di Mitilene, dà prova di grande coraggio salvando la vita a un centurione. Il suo gesto eroico, spontaneamente riferito al pretore dalla persona salvata, viene pubblicamente ricompensato con la corona civica, una prestigiosa onorificenza di cui vuole attribuirsi il merito anche il pedagogo di Cesare, Sosia, che si trova in una taberna a bere e a brindare con alcuni amici. Agedum, dai, dice l'amico rivolto a Sosia, dic nobis, di a noi, omnia dei loprelio, dici tutto di quella battaglia. Si tratta della battaglia in cui Cesare ha salvato la vita del centurione. Primum, innanzitutto, risponde Sosia, cesar magnacum virtute eri pugnavit. Ieri Cesare ha combattuto con grande valore. Qui a ego ips, perché io stesso, io in persona, proprio io, optimum ientaculum illi paraveram. Gli ho preparato un'ottima colazione. Preterea, inoltre, usque a puerizia, fin dall'infanzia, omerum eilego. Gli leggo omero. Itaque, pertanto, Cesare Meus, il mio Cesare, semper cupivit, ha sempre desiderato, e andem gloriam, la medesima gloria, la stessa gloria, quam Achilles obtinuerat, che aveva ottenuto Achille. Tandem, infine, ame ipso educatus est. È stato educato da me in persona. Nam pedagogus illius eram. Infatti, ero il pedagogo di quello, il suo pedagogo. Ergo, dunque, commenta l'amico, uius corone meritum, il merito di questa corona, tui ipsius est, è, alla lettera, di te stesso in persona. È proprio il tuo. Impensa tua, potemus. Beviamo a spese tue. Cesar me vocat. Cesare mi chiama, esclama Sosia. Est boni militis officium, è dovere di un buon soldato, non tantum acriter pugnare, non solo combattere con forza, sed etiam, ipsi duci, obbedire, ma anche obbedire al comandante in persona. Cesare richiama al dovere il proprio servus. Sosia, te ipsum querebam. Sosia, cercavo proprio te. Te in persona. È tut solitum, e come al solito, in taberna te in venio. Ti trovo al bar.